Tunnel Metropolitana Leggera-Dogana, Avellino accelera per le opere pubbliche. Dopo ritardi e sprechi decennali, il sottopasso di Piazza Garibaldi è praticamente pronto. Parola dell'assessore Antonio Genovese. Noi speriamo di fare quanto prima, anche perché, vi ripeto, i lavori sono completi. È stato fatto l'allacciamento Enel, grazie all'Enel. Ti ripeto, bisogna mettere insieme un po' la documentazione con l'autotecnica amministrativa, dopo che possiamo aprire. Svolta vicina anche per la metro leggera, questa mattina un briefing air comune con tanto di fumata bianca. Per marzo possiamo dire, se non ci sono nulla osta negativi, entrerà in funzione. E questa mattina sono partiti anche i lavori di riqualificazione della dogana di Piazza Amendola. L'obiettivo è rispettare i tempi del cantiere, 360 giorni da oggi. Speriamo pure qui di completare nel rispetto del cronoprogramma. Per quanto riguarda i lavori pubblici, voi lo sapete meglio di me, uno ha la data d'inizio, ma la data di ultimazione dei lavori rimane un po' aleatoria. Se tutto va bene dovremmo rispettare il cronoprogramma. Anche al centro storico e a Piazza Castello si procede con gli interventi. Stiamo provvedendo a fare il restyling di alcune strade, quelle diciamo più dissessate che hanno bisogno di un intervento urgente.